Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin, let's begin Siamo al Piper Club, ricordiamolo via Tagliamento 9 Qui c'è un contest Ebbene sì, è che è cominciato questa sera verso le 8 e mezza Si sono esibite 38, io dico 38, tra band e cantanti emergenti I migliorimenti li state sentendo ora in diretta radiofonica Ci sono esibiti quasi tutti, mancano ormai gli ultimi tre artisti E leggeremo entro le tre, quindi entro la fine della trasmissione I migliori tre che vinceranno i premi messi in palio dalle due case discograficche Scuole di musica presenti questa sera qui al Piper Club Sono la PM Positive Music School L'ho detta finalmente E ce l'hai fatta, diciamo Ora mi devi aiutare con la seconda perché vedi, Roma Oh, vedi, faccio brutte figure, cavolo Aspetta, aspetta Allora, le due giurie sono due nomi diversi Roma Spazio Musica Oh, lo sapevo, lo sapevo, volevo vedere se sei pronto E poi la PM Positive Music School Perfetto, saranno loro a decretare i primi tre ma adesso il prossimo talento della notte di By Night Roma Mister Alessandro Moglioni Ce l'abbiamo già schierata Moglioni tutto a posto Lei è numero diciotto per la nostra giuria Isabel Parsi che si esibirà questa sera con un pezzo inedito Che si chiama La ragione di chi La presentiamo come talento di By Night Roma Isabel Parsi, La ragione di chi Vai Paolo Roberto La radio By Night Roma La radio By Night Roma Presenta il nuovo talento della notte romana Guarda questi occhi Baccia queste lab e poi Senti l'illusione Che ora gira attorno a noi Senti questa voce Che ora sta parlando a te Pensa unicamente ad un futuro insieme a me Dimmi come stai, dimmi allora cosa fai Dimmi come stai, dimmi allora tu cosa fai Dimmi parole in silenzio Le chiudo i miei occhi e poi penso Oddio, come non pensassi mai Come se non avessi La ragione di chiudo i miei occhi e poi pensassi mai Come un mare moto, una tempesta dentro me Come un grande fuoco che ora brucia dentro te E poi se tu vedessi quell'amore che ho per te Forse capiresti che io vivo solo per te Di quello che vorrei di quello che vorrei Dimmi poi come sarà Dimmi parole in silenzio E chiudo i miei occhi e poi pensassi mai E chiudo i miei occhi e ti penso Come non pensassi mai Come se non avessi ragione Isabel Parzi Grazie Complimenti, complimenti a te Ricordiamo numero 18 per la nostra giuria Per essere appunto giudicata e votata Radio, radio, by night Roma 104.5 Per essere appunto giudicata e votata